E' arrivata una mail da Stefano da Sant'Angelo in Odigiano. Come tutte le edizioni che si rispettino, dimentico ovviamente il live di realizzazione, sono costretta a leggere a un millimetro. Allora, Grande Mattia, Stefano Tarlocco, per favore fategli fermare una clausola anti-you e in diretta. Qui ho solo il foglio della scaletta, con una matita, non so se è valido, però io ho la clausola anti... quella che vale è, non mi voglio sostituire a nessuno, per milanitivi anti-you, se vuoi firmare qua... Tanto Brantini non c'è il serio. No, non ci parli, non ci parli. Eh, la sta firmando. Questa è un documento, è qua, tacca... Però l'aveva già... Benedetta, l'aveva già... No, scusa, eh. Sì, però lui già prima... E poi non parlò, poi ti è consentito. Aveva già detto cose importanti su questo tema. No, capì, però, il già Bonanno me lo chiede e vuoi che non lo faccia. Eh, scusa.